ciao a tutti ho preparato come vedete la farina di macina da pietra tipo 1 e la crusca di grano bio poi ho un esubero di lievito madre ma è fresco diciamo di un giorno è ancora molto attivo metto il cruschello insieme alla farina e ora andrò a mettere in autolisi come sapete l'autolisi aiuta molto l'impasto specialmente in questo caso dove c'è questo cruschello come dicevo questo cruschello è bio quindi non è uno scarto tolto da una farina raffinata e bio perché il grano anche è stato coltivato senza pesticidi questo si può mangiare addirittura la mattina a colazione quindi va bene così bene metto continua a mettere l'acqua per bagnare le farine di solito non amo fare il pane con con gli esuberi però in questo caso farò un'eccezione perché era un esubero diciamo molto bello in forza e quindi provo vediamo come viene questo pane finito di bagnare bene la farina copro e lascio i soliti 30 minuti dopodiché vado a mettere in planetaria ci metto la pasta madre a pezzettini ne ho usata 120 grammi invece dei solito i soliti 100 ci metto anche un altro coccino d'acqua poi quella che è rimasta l'aggiungo piano piano ci metto mezzo cucchiaino di malto ma se volete potete anche ometterlo io lo metto perché l'ho comprato per i panettoni adesso lo userò per le colombe e visto che ce l'ho lo metto è uno zucchero quindi aiuta comunque la lievitazione mentre che giro poi continuo a mettere l'acqua un po per volta quella che è rimasta la metto proprio un goccino per volta aggiungo anche il sale io metto sempre un cucchiaino scarso ma se volete mettere in più a vostro gusto e continuo poi a far girare fino a portare ad incordatura l'impasto quando vedete che la ciotola rimane pulita e l'impasto rimane attaccato al gancio è pronto eccolo qua lo metto sul piano di lavoro e faccio giusto un paio di giretti così in questo modo lo piego ecco qua ora lo metterò dentro una ciotola e lo lascio lievitare lo lascio lievitare lo copro con la pellicola e lo lascio all'incirca quattro ore i tempi come sapete sono molto relativi a dipende molto dalla temperatura che avete in casa e dalla stagione soprattutto eccolo qua una volta che è cresciuto non necessariamente deve raddoppiare deve essere il doppio all'importante che lievitato vedete questo mio com'è bello l'impasto è molto bello procedo con il primo giro di pieghe le classiche pieghe a 3 stringo un pochino tra una pieghe e l'altra e faccio passare coro e faccio passare una mezz'oretta mezz'ora 40 minuti dopo il secondo giro di pieghe passato il tempo vado a formare il filone filone o pagnotta quello che volete quello che preferite allargo l'impasto così lo piego così in questo modo cerco di stringere un pochino quando piego per evitare che si formino quei buconi grandi proprio dovuti al fatto che non abbiamo chiuso bene ok lo sistemo per benino poi ho preparato un cestino con la semola dove metterò il filone girato con la chiusura in alto così poi quando vado a cuocere lo ribalto ci metto la semola non il tritè non la crusca perché altrimenti la crusca brucerebbe subito il filone sopra quindi ci ho messo la semola bene ora ci metto ancora un po di semola sopra lo copro con un con un telo sono arrivata con i tempi in serata quindi lo sigillo con una busta poi di plastica e lo metto in frigo fino a domani mattina così gli do tempo di lievitare ancora di più approfitto per ringraziare tutti perché gli iscritti stanno aumentando credo che abbiamo già passato i 7500 iscritti e poi ricevo tanti commenti veramente deliziosi mi fa molto piacere ho addirittura ricevuto commenti da ex colleghe di lavoro che ci siamo ritrovati così su youtube mi fa molto molto piacere vi ringrazio tanto ed eccolo qua l'ho tirato fuori la mattina l'ho fatto leggermente acclimatare il tempo di far scaldare benissimo il forno ed è pronto come vedete ora lo ribalto sulla carta forno voi se volete poi usate fate scivolare sulla piastra come volete o su una teglia calda vediamo ho comprato questo questo taglierino su amazon ma mi sembra che non taglia molto bene sinceramente no lo sto provando per la prima volta ma non taglia molto bene non sono soddisfatta qui ho ripreso il mio bisturi vabbè con i disegnini era molto morbido l'impasto quindi non sono venuti molto bene ho infornato ecco qua con il pentolino per i primi 20 minuti poi ho abbassato la temperatura a 220 poi a 200 in totale quasi quasi un'ora 55 minuti presso a poco ed eccolo qua ho dimenticato di dire che gli ultimi 10 minuti aspiffero come al solito con lo sportello leggermente aperto ora lo faccio raffreddare prima di tagliare e poi tagliamo bene sì bene direi che è venuto bene anche se ho usato l'esubero come vedete ci sono molti molti alveoli è molto leggero il colore è bellissimo perché c'è la crusca eccola qua bene amici vi ringrazio della visione vi invito a condividere i miei video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao